Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono code per viabilità esterna che non riceve in uscita a Firenze Scandici provenendo da Bologna. In A11 i rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e Bivio con la 1 in direzione Firenze. In FIPILI code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandici in direzione Firenze. Sul raccordo a Siena-Firenze riduzione di carreggiata per lavori tra Bargino e Tavarnelle in direzione Siena. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze per i lavori alla linea 2 della tramvia, domani in orario 23.6 sarà replicata la chiusura della rotatoria Forlanini per concludere i getti sul viadotto Sandonato. Sarà chiusa in via di Novoli la corsia di collegamento tra via Leredi e via Forlanini in uscita città. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!